Ma allora il consumo del porno è così dilagante da essere diventato un'emergenza e guadagnare così significa prostituirsi. Guardate cosa hanno scritto alcuni dei più importanti quotidiani italiani a proposito delle parole che Francesco ha dedicato al vizio del porno che coinvolgerebbe sia i preti sia le suore. Allora ne parliamo questa sera con un ricco parterre di ospiti. Buonasera a Malena Pornostale che non ha bisogno di tantissime presentazioni, Don Patrizio Coppola e ancora Alex Mucci, creator digitale e anche ingegnere aerospaziale, di questo parleremo tra un po'. Al suo fianco Eva Menta, anche lei creator digitale, le vedete insieme anche perché insieme spesso lavorano e poi c'è Caterina Collovati da questa parte, collegato da Roma, Mario Adinolfi, alternativa per l'Italia, grazie a tutti per essere con noi questa sera. però rispetto, se sono quelle le regole io rispetto le regole, per carità. Mario Adinolfi, vengo subito da te, tu ritieni che Malena sia uno strumento del demonio? No, ma non faccio il prete, quindi queste sono questioni che riguardano i sacerdoti. Penso sia un genio Papa Francesco perché è riuscito a farci parlare finalmente di pornografia. Sai quell'argomento su cui io vengo spesso deriso, ma io sono convinto come Papa Francesco che la pornografia sia un po' normale, senza dubbio. E da come ha fatto Papa Francesco a parlarne? Ha detto è nella Chiesa, perché se avesse semplicemente detto male della pornografia non avrebbe fatto notizia, ma la genialità della comunicazione di Francesco è dire prima di tutto il male è dentro di noi, cioè non addito, non uso il meccanismo di additare. Dico attenti, è dentro di noi, ma questo che sia male è assolutamente... Però Mario posso dirti una cosa, stai portandoci fuori tema. Il Papa ha detto che i preti e le suore guardano i film porno, diciamola così com'è. No, il Papa ha detto che la pornografia è male e che la pornografia è anche male dentro la Chiesa, perché anche preti e suore guardano i porno. È un meccanismo di, secondo me, geniale forma di comunicazione, perché se avesse detto semplicemente che la pornografia è male, non saremmo qui a fare la puntata. Quindi l'elemento cruciale del Papa è saper costruire comunicazione intorno ai temi del... Allora, dato questo premio di marketing al Papa, di noi, ti fermo... Adesso la presenza dell'Olli Fanzer ha creato un altro target per le persone, ma in realtà si tratta sempre della vecchia legge del... Per lo meno loro con onestà fanno un... E allora, scusami Caterina, però... Voi siete camuffate dietro il contenuto da vendere. Una prostituzione è camuffata la vostra. Quindi praticamente... Il problema è proprio questo. Adinolfi, riferisco bene le tue parole, tu dici che praticamente è prostituzione, così... Sono quelli che dicono no, non facciamo... Tu hai detto il tuo appello al governo, chiudiamo OnlyFans perché è prostituzione. Io sostengo che la piattaforma OnlyFans debba essere chiusa in Italia perché è una chiara forma di sfruttamento della prostituzione. E in Italia è il reato. In Italia sfruttare la prostituzione è il reato. Quei 440 milioni di euro che avete visto essere il profitto 2021 è profitto da sfruttamento della prostituzione. Per quanto mi riguarda, dal punto di vista etico, non voglio far sapere alle mie figlie che esista questo modo di cosiddetto lavoro. Perché il lavoro non è. È un modo di soddisfare le voglie maschili. Tra l'altro mi meraviglio che in un tempo in cui siamo qui a difendere la dignità delle donne, la puntata scorsa abbiamo crocifisso un 84enne perché aveva sfiorato un gluteo di una subrette. Adesso invece stiamo esaltando la, diciamo così, vendita di molto più che un gluteo in termini prostituzioni. Chiaro, Mario. Con tanto di pappone che prende la quota. Allora, fermo. Va bene così. Va bene, non esagerare, Mario. E soprattutto non costringermi, come al solito, al nostro giochino che t'abbasso il microfono. Io credo che prima di tutto dovrebbe essere depotenziato il termine stesso. Perché noi, dando ancora adito a questa versione brutta del termine prostituta, permettiamo alla gente di usarcelo contro. E' bello chiamarci sex worker? Perché chiamarlo in inglese deve essere meno demonizzante? Ma perché poi prostituta deve essere negativo? Ma no, non ne abbiamo risolto perché si sta parlando. No, è proprio quello che sto dicendo io. Cioè, però sta ribattendo, sta ribattendo e sta confermando. Sta ribattendo. Non mi rendete conto come state messi. Sta ribattendo. Non parlate uno sull'altro, volevo sentire... Perché questo ha abbassato i microfoni così è il sistema più giusto per fermare. Dobbiamo fermarci. Mi sembra che la polemica meriti un approfondimento. Magari settimana prossima. Dobbiamo, dobbiamo. Torniamo domenica prossima, sempre in prima serata, sempre su Rete4. Buonanotte a tutti.